In The Pits c'è un bivio a un certo punto del livello, non molto dopo l'inizio. Per completare il livello prendendo tutte le casse è necessario esplorare entrambi i lati. Io di solito vado prima a destra perché mi trovo meglio. Perciò ho pensato di fare un piccolo video per mostrare come si può affrontare questo punto del livello, tornando poi indietro dall'altra parte. Quindi qui si può proseguire normalmente affrontando i nemici che abbiamo davanti, rompendo tutte le casse, eccetera. Perciò vediamo come tornare indietro quando si raggiunge l'altra parte del vivio. Ecco, qui appunto torniamo indietro sulla sinistra e adesso stiamo attenti. Ok, perfetto. Allora qui c'è cristallo. Ok, saltiamo una volta. Cassa blindata che fa comparire le casse nascoste che erano sull'altro percorso a destra. Qui dovrebbe comparire giù un uccellaccio, infatti. Qui saltiamo due volte, esatto. Stiamo attenti, qui ce ne sono due. Ok, siamo arrivati. Volevo dire, mi ha fregato qua. In realtà mi frega sempre, a pensarci bene. Allora, dicevamo. Torniamo indietro, attenti che qui c'è quello che mi ha fregato poco fa. Ok, siamo attenti a saltare. Dovremmo esserci qua. Saltiamo, ok. Ora ci siamo. Perciò adesso basta seguire il percorso di destra di nuovo. E rompere le casse che adesso sono comparse. E poi proseguire fino alla fine del livello normalmente. E poi proseguire il percorso di destra di un po' 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 di